Sindaco, la nona festa della Castagna che torna anche quest'anno non è una semplice ricorrenza locale? No, è un evento eccezionale sul quale l'amministrazione insomma investe tantissimo perché non promuove solo diciamo la Castagna di per sé, ma muove un'economia, muove un indotto, muove una conoscenza del territorio, un territorio molto disagiato in periferia. La festa delle Castagne lo mette in evidenza, questo significa dare risposta e risultato al territorio. Sabato si inizia con la presentazione del progetto di riqualificazione. Sì, un'altra importante scelta che ha fatto l'esecutivo comunale, l'amministrazione, spendere, noi siamo stati beneficiari dei cosiddetti 6.000 campanini, un milione di euro da spendere sul nostro territorio. Abbiamo intituato Senarica come paese da riqualificare legando il tutto a questo sistema della festa della Castagna. Una manifestazione ad elevata rilevanza turistica, tant'è che si prevedono oltre 7.000 presenze. Nella frazione di Senarica avremo un primo coro di musica folk, l'Eco Traitorioni, nel pomeriggio gli sbandieratori fra porta terziere di Narni e nella sera lo spettacolo musicale Outlet Live Music e un DJ che concluderà la serata. Nella giornata di domenica invece avremo la mattina un coro folk città di Spoltore, quindi la sfilata delle auto d'epoca del cast di Teramo. Nel pomeriggio il bellissimo spettacolo di Vittorio e il Fenomeno e in serata anche un DJ che concluderà la manifestazione. A disposizione anche un servizio navetta? Sì, un servizio navetta che accompagnerà tutti i visitatori dalla frazione di Entorale alla frazione di Senarica. È gratuito e vi aspettiamo numerosi. La Proloco dislocherà per tutto il borgo di Senarica delle casette in legno e dei gazebo dove tramite i propri soci provvederà a far degustare prodotti a base di castagne quali caldarroste, zuppa, fagioli e castagne, calcionetti ed altri prodotti che derivano dalla lavorazione del frutto protagonista della manifestazione, la castagna.